Musica Buonasera gentili telespettatori e benvenuti per un nuovo appuntamento che da oggi dedichiamo alle elezioni del 24 e 25 febbraio. Lo sapete tutti, siamo invitati a recarci alle urne per eleggere il nuovo Presidente del Consiglio e dunque per il nuovo della Camera e del Senato. E' quello che è il nostro compito, cercando di fare una buona informazione che possa essere da voi gradita, appunto dicevo quello che è il nostro compito è quello di farvi conoscere i candidati soprattutto della Sicilia orientale che è il collegio appunto al quale noi facciamo riferimento. Ed è per questo che da oggi in poi nei nostri studi si alterneranno tantissimi ospiti, ospiti di importante rilevanza nazionale, non solo locale, che ci permetteranno di capire meglio quelli che sono i programmi innanzitutto dei leader che rappresentano, delle coalizioni che rappresentano. E poi ci permetteranno di capire se finalmente con queste elezioni potrà arrivare il riscatto che la Sicilia da tanto tempo attende, considerando i dati ISAT, i dati che ci danno come una delle regioni purtroppo in cui il PIL cresce meno, ma considerando anche quella che è la situazione di crisi a livello nazionale. Questa premessa era d'obbligo, così come d'obbligo anche ricordarvi che ci sono degli account Facebook e Twitter ai quali vi potete rivolgere per mandare tutte le vostre domande che noi di volta in volta gireremo ai nostri ospiti. Vi ricordo su Twitter potete seguirci cliccando di uno television, mentre su Facebook cliccando di television. C'è anche un hashtag elezioni di uno. Queste delle piccole informazioni prima di presentare i graditissimi ospiti che ci hanno raggiunto quest'oggi per questa puntata. Io parto dalla mia sinistra salutando Sandro Ruotolo per la rivoluzione civile con Ingroia. Buonasera, grazie di essere qui. E grazie anche a Giuseppe Berretta, esponente del Partito Democratico, onorevole uscente appunto del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera anche a Ruggero Razza che invece si candida per questa esperienza romana con la destra. Buonasera. E grazie. Buonasera anche ad Andrea Vecchio invece della scelta civica con Monti, attuale presidente del Consiglio che come sapete sale in politica e si candida accanto di Udc e Futura Libertà. Buonasera. Buonasera, grazie. Io parto subito dalla mia sinistra per fare un po' il giro delle domande. Ovviamente man mano ci coinvolgerà il discorso in tanti argomenti, però io parto subito da una frase che mi ha colpito sentendo un po' gli interventi di Ingroia e poi leggendo anche il vostro programma. Voi dite che state dando vita ad un programma, ad una coalizione che deve andare contro Monti e contro Berlusconi. Contro Bersani no? Assolutamente no, in questa campagna elettorale ovviamente il centro-sinistra, la coalizione del centro-sinistra, noi siamo competitor del centro-sinistra, ma una serie di personalità della società civile e una serie anche di rappresentanti di alcuni partiti che in questi anni si sono posti a Berlusconi da una parte e negli ultimi mesi al governo Monti, quindi a Mario Monti, hanno pensato un mese fa circa, un mese e qualche giorno fa di dare vita a questa che è una lista civica diciamo, tant'è che la nostra sigla è rivoluzione civile. Abbiamo pensato che il rischio che correva questo paese, il nostro paese, in questo clima di antipolitica, in questo clima, in questa stagione vissuta nei 14 mesi del governo Monti, il governo dei tecnocrati, della tecnocrazia, abbiamo pensato che questo centro-sinistra stava dando vita a un'ipotesi, insomma, che dopo le elezioni ci saremmo ritrovati il governo Monti. Certo, per noi, Silvio Berlusconi, il berlusconismo, insomma, ci auguriamo di lasciarcelo alle spalle, è ovvio che abbiamo combattuto ognuno di noi nel suo piccolo, questo, chiamiamolo, periodo nefasto per il nostro paese. Chi vi parla ha dovuto combattere, poi ha dovuto rivolgersi al magistrato per poter continuare a fare il suo lavoro, quello di giornalista. Nel 2002 l'allora capo del governo Silvio Berlusconi da Sofia emise un editto, come si faceva nelle vecchie dittature. Questi signori non devono più lavorare, i signori erano Enzo Biaggi, Michele Santoro e Daniele Luttazzi. Quindi per noi il berlusconismo è da abbattere, non c'è ombra di dubbio. Però il rischio che vediamo oggi è l'affermazione di quest'area tecnocrate, quest'area che in nome dell'Europa delle banche, delle lobby, della finanza, praticamente ha instaurato nel nostro paese l'austerity. Provocando il declino di questo paese, perché le misure che ha adottato le conosciamo tutte e le stiamo vivendo tutti sulle nostre spalle. Io penso all'Imu, ma penso alla nefasta riforma delle pensioni, all'attacco e alla chiusura dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e penso anche alle parole del governatore della Banca d'Italia. Visco, quando dice che gran parte del declino e quindi delle difficoltà e quindi della recessione ti deriva proprio dalla grande austerity. Questo è un governo che avrebbe dovuto immediatamente andare a casa, il governo Monti. E la cosa che ci preoccupa di più è vedere all'opera il politico Monti, che usa un po' il linguaggio e l'essere della vecchia, non dico politica perché è un grande rispetto, tant'è che noi non vogliamo alla Beppe Grillo fare opposizione, essere il fanale dell'antipolitica, noi vogliamo andare al governo. Infatti noi siamo l'alternativa per il centro-sinistra a Mario Monti, a quello schieramento lì. E quindi ci preoccupa questa idea della tecnocrazia che batte la politica. È il rischio che corriamo oggi di avere un Monti Bis, che per noi è un punto dolente e centrale. A proposito di Monti Bis, di sondaggi e di numeri, siamo sempre ovviamente noi aggiornati, siamo collegati su quelle che sono le notizie dell'ultimo momento e qui devo citare lei Berretta. Secondo un sondaggio, secondo il gradimento degli italiani per il futuro Presidente del Consiglio, Berlusconi ha superato Bersani. Berlusconi è salito al 16%, Bersani dal 18% è sceso al 15%. Sta funzionando qualcosa male in questa campagna elettorale di Bersani? Io sono convinto che la campagna elettorale sia andando bene. Cioè che sia una campagna elettorale purtroppo abbastanza sottotono e quindi da questo punto di vista c'è un tema più generale, un'esigenza di cercare di far decollare la campagna elettorale e di cominciare a parlare delle questioni che interessano tutti, dei problemi che quotidianamente i cittadini affrontano, parlare un po' meno delle diatribe che molto spesso riempiono magari i salotti televisivi ma che sono molto distanti dalla quotidianità della vita delle persone. In questo senso lo sforzo che è stato fatto da noi, che è lo sforzo che viene fatto dal Partito Democratico, quello di fare una campagna elettorale, penso che è un sforzo comune a tanti, di fare una campagna elettorale in giro tra le persone utilizzando molto il contatto diretto, organizzando tante iniziative nei comuni, piccoli, grandi, medi, tentando quindi di superare quella barriera che si è creata in questi anni tra politica e cittadini che è il vero problema che oggi abbiamo di fronte. Quindi io in questa campagna elettorale anche il fatto che si sia un po' allargata la competizione, che ci siano più soggetti politici presenti, lo vivo anche come un elemento di arricchimento che può consentire di recuperare quella fascia ampia, troppo ampia di astensione che in questi anni si è formata e che dobbiamo tutti lavorare a recuperare perché la democrazia vive di partecipazione e di condivisione. Poi per quanto riguarda Bersani, è chiaro che Bersani ha avuto un picco dal punto di vista del gradimento collegato alla fase delle primarie, le primarie sono servite, l'arma atomica ha detto Bersani, è servito a far esplodere in termini di gradimento sul Partito Democratico, in termini di gradimento su Bersani che ha vinto le primarie, probabilmente nei mesi successivi c'è stato un recupero da parte degli altri, una fase di grande esposizione, di grande protagonismo del Partito Democratico che aveva portato a dei dati che erano un po' sovradimensionati rispetto a oggi, si ritorna nell'ambito di dati ordinari, credo che le ultime settimane di campagna elettorale debbano essere utilizzate per focalizzare molto l'attenzione sui programmi e per rassicurare gli italiani in ordine a una prospettiva, perché il vero tema è questo, la preoccupazione che io sento crescere è che il giorno dopo l'elezione ci sarà un governo, ci sarà una maggioranza, allora chi ha questa preoccupazione, legittima preoccupazione, sicuramente noi ce l'abbiamo, sa che c'è un confronto che riguarda fondamentalmente alcune forze, tutti i voti sono utili ma sicuramente premiare il Partito Democratico, la coalizione di centro-sinistra è il modo per assicurare una maggioranza solida, assicurare una prospettiva di governo, evitare anche il rischio che dopo le elezioni ci debbano essere dei tentativi di andare oltre il risultato elettorale e creare delle cose che probabilmente non sono più in linea con i tempi, allora il sistema elettorale non è un sistema elettorale brutto da tanti punti di vista che ha anche un limite in questo senso perché non assicura una governabilità, non assicura una maggioranza coerente nelle due Camere. Però non mi sembra ci sia poi stato tutto questo impegno per cambiarla questa legge elettorale. L'impegno c'è stato, l'impegno c'è stato e come sempre l'avversario di cui parlavamo prima, il Berlusconi e il berlusconismo sono stati anche in questo ambito il vero ostacolo a un cambiamento che era un cambiamento voluto da gran parte delle forze politiche. La possibilità di scegliere gli eletti, le modalità in cui questa possibilità è stata praticata da Berlusconi in primis, è indicativa, c'è stata una scelta tesa a privilegiare gli amici e il gruppo dirigente ristretto del PDL, è indicativa di un approccio, di un modo di pensare alla politica, di fare la politica che è diametralmente opposta a quello nostro. Io per primo ho fatto le primarie e molti di noi hanno fatto le primarie e quindi si sono sottoposti noi in casa a una valutazione da parte degli elettori che ha consentito di superare in misura parziale quel limite della legge elettorale che non consente agli elettori di scegliere il proprio parlamentare. Però come dicevamo ancora è incerto quello che è il futuro, soprattutto per quanto riguarda il Senato, tant'è che la russa teme qualche inciucio addirittura fra Berlusconi e lo stesso Monti. Proprio la russa è dichiarato che qualora si possa palesare questo inciucio, la russa è pronta a fare marcia indietro e a girare le spalle a Berlusconi, la russa neofondatore di Fratelli d'Italia. Lei che poi è nella coalizione, razza di Berlusconi, di questo centro-destra, ci sono inciusi? Cosa sta succedendo? Guardi ho difficoltà a fare l'esegeta di tutta la coalizione, a maggior ragione ho grandissima difficoltà a fare l'esegeta di la russa, lascerei a lui la risposta. Però può capire se sta succedendo qualcosa, se c'è qualcosa in ballo, perché comunque Monti e Berlusconi un giorno si attaccano, un giorno dicono lasciamo la porta aperta. A me pare, parlando di qualcosa che certamente può farci entrare nel ragionamento sul quale lei ci sta indirizzando. C'è senza dubbio un rischio che gli elettori avvertono. Il rischio che gli elettori avvertono, impersonato dalla vicenda del governo Monti e della presenza in politica del Presidente del Consiglio e su quale politiche si orienterà il prossimo governo all'indomani di queste elezioni. In questo senso, se c'è da parte di molti osservatori la consapevolezza che il prossimo Parlamento potrebbe non riservare in entrambi i rami del Parlamento una maggioranza netta, è fortissima la sensazione, non fosse altro perché il segretario Bersani lo ha detto anche con una certa chiarezza che egli cercherà verso il centro l'accordo. È quello lì che ha dichiarato anche nelle ultime giornate. La vera preoccupazione degli italiani è essenzialmente quella di ritrovarsi ad aver votato per poi rivedere l'indomani le stesse politiche che sono state condotte fino ad oggi e che hanno portato al clima di recessione e agli indicatori economici sui quali spero potremo concentrarci che segnalano uno stato di crisi patologica che non è migliorato negli ultimi 12 mesi ma che è sensibilmente peggiorato come sanno le famiglie, come sanno le imprese, come sa chi esercita il commercio. Ed allora perché ci sono in una legge elettorale con la quale io personalmente non avrei voluto essere candidato? La destra è una forza che non è presente in Parlamento quindi non poteva partecipare al dibattito sulla modifica della legge elettorale e forse non è neppure vero pensare che ci sia stato un unico ostacolo quello di uno specifico partito all'appropriazione di una nuova legge elettorale perché poi esistevano in Parlamento numeri tali che se tutti gli altri avessero voluto modificare la legge elettorale lo avrebbero potuto fare, avrebbero potuto portare il testo in aula, avrebbero potuto manifestare nella responsabilità di chi questo voto non ha voluto. Io non amo generalizzare, la realtà è che ci troviamo a votare con questa legge che ha alcuni elementi positivi ed ha anche alcuni elementi negativi. Tra gli elementi positivi questa legge ha quello lì di consentire la partecipazione delle coalizioni. Noi in queste settimane stiamo chiedendo attorno al programma della coalizione del centrodestra, insertato delle iniziative sociali che la destra per la prima volta ha voluto presenti nel programma, noi stiamo chiedendo il consenso degli elettori con quale obiettivo? Con l'idea di vedere riaffermato un impianto sostanzialmente bipolare perché consideriamo il bipolarismo una conquista e non una degenerazione di questi ultimi anni e riteniamo semmai che il bipolarismo debba potersi orientare e confrontare su valori tra forze politiche contigue e che questi valori possano diventare la espressione di una politica di governo che debba e che possa essere chiara. La destra è nella coalizione di centrodestra per ribadire un valore che è quello della sovranità nazionale che è il valore che oggi noi più di ogni altro riteniamo violato. Sovranità nazionale significa sovranità politica e cioè chi governa un popolo lo decidono i cittadini di quella nazione e non le nazioni vicine. Che vuol dire sovranità monetaria e in questi giorni sulle polemiche anche sul ruolo che la Banca d'Italia ha svolto sul piano dei controlli verso il sistema del credito, magari potremo ritornare, ma che vuol dire soprattutto sovranità dal punto di vista di capacità di autodeterminarsi di ciascun popolo nei confronti delle politiche di governo che vuole veder portare avanti. Ecco, da questo punto di vista la campagna elettorale ci dirà, ed è forse la mia la posizione sbagliata nella quale sono seduto, ci dirà se di fronte a un Parlamento che potrebbe riservare maggioranze diverse il centrosinistra confermerà la scelta che dice di volere fare prima del voto e cioè di volere costruire una coalizione con scelta civica, con fini e con casini o se invece laddove dovesse, come pure qualche sondaggio ci dice in questi giorni, prevalere il centrodestra si riuscirà a costruire una politica diversa. Da questo punto di vista ci sono tante incognite rispetto alle quali, e concludo, deve esserci in questo condivido il ragionamento di Giuseppe Berretta, un'assenzione di responsabilità da parte degli elettori. Quando si devono assumere delle scelte importanti, gli elettori con il proprio voto hanno la capacità, la competenza, la responsabilità con la partecipazione di dare degli indirizzi. La speranza di chi affronta questa difficile campagna elettorale è che la scelta che vorrà emergere da parte del popolo sia una scelta in nome della chiarezza e sia una scelta in nome di politiche che vogliano portare fuori dal baratro il nostro paese. Ho colto nelle parole di Razza, e qui mi rivolgo a lei, forse un chiaro riferimento a quelle che sono un po' le polemiche di questi giorni. C'è questa campagna elettorale troppo europeista di Mario Monti, con un principale sponsor, la Merklands, che è guardare a quella che è la situazione italiana. È vero, Monti cerca appoggio nell'Europa per non cercare appoggio qui in Italia, considerando che in Italia ha più critiche che favori. Loro tre sono degli abili politici, anche se lui è giornalista molto più abile di un politico. Io sono un uomo d'impresa che è prestato alla politica, perché nelle mie esperienze mi sono sempre lamentato di questa mala politica che in questi ultimi vent'anni ha dominato l'Italia, perché l'Italia si trova in coma, si trova in queste condizioni per vent'anni di governo della destra, intramezzato ogni tanto da una parentesi di governo di centro-sinistra che poi la stessa sinistra estrema ha tarpato, ha mandato a casa, perché sono ingovernabili. Molto spesso una domanda mi veniva rivolta dal basso, ma perché non ti occupi tu di politica, perché non vai tu a vedere là? Ho avuto l'opportunità e l'ho fatto, sono qua, ci metto la faccia, ci metto l'impegno e ci metterò quel poco di esperienze e di conoscenze che ho nel capire come si dovrebbe gestire un paese. Io ho sentito parlare con molta enfasi dei guasti che il governo Monti ha prodotto a questo paese. Io non ho sentito la stessa enfasi nel definire i guasti che vent'anni di berlusconismo hanno prodotto in questo paese. Mi posso permettere di dire solo una cosa? In questi vent'anni di berlusconismo però c'erano anche l'Udc di Casini e Futura e Libertà di Fini che comunque sono alleati di Monti. analizziamo anche questo. Nella prima parte di questi vent'anni, ma dicevamo prima che ognuno può modificare le proprie idee e le proprie posizioni. Ci mancherebbe. Allora Monti è stato chiamato nella qualità della medicina dell'urgenza per stare al capezzale di questo paese che era in coma. Monti ha dovuto utilizzare delle dosi sciocco di medicinali per tentare di mantenere in vita il paese. Queste dosi sciocco di medicinali sono state utilizzate con l'approvazione di tutto il Parlamento, tranne l'Italia dei valori e la Lega. Tutto il resto del Parlamento ha approvato le decisioni assunte da Monti, per poi alla fine arrivare a concludere da una parte e dall'altra che Monti è stata la rovina del paese. La rovina del paese è stato il governo Berlusconi. Io ricordo per esempio che nel 2010 mi trovavo all'Eire di Milano. C'era un importantissimo convegno al quale partecipavano Claudio Artusi, Manfredi Catella, Cesare Ferrero e Alessandro Pasquarelli. Magari alla gente che ci ascolta questi nomi non dicono niente, ma sono quattro tra i più importanti uomini di impresa e di gestione economisti del paese. Quando si parlava dei problemi dell'Italia nel 2010 la conclusione è stata che purtroppo questo paese non ha un ministro dell'economia, ha a stendo un ragioniere modesto, non un ministro dell'economia. Allora i guai di questo paese provengono da molto lontano, provengono dalla miopia e dall'assurdità della gestione dell'economia del paese. Dal 2009 ad oggi solo il mondo dell'edilizia ha perso 550 mila posti di lavoro, il sole 24 ore di stamattina, 550 mila posti di lavoro dal 2007 ad oggi, dal 2009 scusi ad oggi. E questo ancora per la miopia del governo Berlusconi, per l'ottusità di Tremonti, perché anziché fare tagli lineari, come ha fatto rovinando la scuola in Italia, rovinando l'edilizia, rovinando l'impresa, avrebbe dovuto fare tagli irragionati, anziché puntare sulle grandi opere faraoniche non realizzabili come il Ponte sullo Stretto, che era una bufala di Berlusconi, avrebbe potuto e dovuto occuparsi della manutenzione del territorio. Io vengo dall'Ance e noi Ance, sono 4 anni, 5 anni che diciamo al governo Berlusconi, ai ministri competenti, che occorreva partire dal finanziamento di piccole opere sparse su tutto il territorio nazionale, per manutenere le scuole. Non abbiamo una scuola che rispetti le norme di sicurezza antisismica e di sicurezza antinfortunistica. Ma questi stessi politici che non hanno pensato alla manutenzione e poi sono gli stessi che si stanno ricandidando? C'è poco di nuovo poi alla fine? Nella nostra lista scelta civica non ci sono politici, nella nostra lista scelta civica ci sono imprenditori, ci sono quegli imprenditori che hanno saputo amministrare le loro aziende senza speculazioni e senza truffe, ci sono imprenditori sani e politici, ci sono tanti giovani, perché l'età media della lista scelta civica, almeno per quanto riguarda la circoscrizione Sicilia 2, levando la punta dell'iceberg che è la mia persona che ha un'età avanzata, la media è 37 anni, sono tutti ragazzi, sono tutti giovani come Giuseppe Berretta e come lo razza e sono giovani che hanno voglia di portare in politica la linfa che dovrebbe governare questa società. Però questo lo richiedo a lei ma poi ovviamente la domanda è stessa anche agli altri ospiti, è vero ci sono giovani, ci sono donne, ma le liste noi un po' le abbiamo guardate, dove sono i giovani e dove sono le donne? Sempre negli ultimi posti di queste liste, tranne in alcuni casi, poi forse la destra è uno dei pochi casi di Giuseppe Berretta, però in ogni caso quando si parla di presenza femminile, molta presenza femminile, molta presenza dei giovani, considerando la legge elettorale, poi con i numeri di seggi che scattano, non sempre questi giovani e queste donne riescono ad avere un posto in Parlamento, forse è arrivato il momento, forse la destra lo sta facendo il PD con Giuseppe Berretta, di mettere questi trentenni e questi quarantenni a capo delle liste. Intanto a me non mi hanno messo nessuno, mi hanno messo le primarie. Le primarie, quello sicuramente, però comunque cercando di puntare sui giovani diversamente. Però ti posso dire su questo, nella lista del PD al di là del fatto che io sono in posizione seconda posizione, quindi posizione presumibilmente utile, ma c'è il segretario nazionale dei giovani democratici che è in quinta posizione, che ha 27 anni, abbiamo in posizione utile un'altra candidata che ha 29 anni, quindi sia tramite le primarie. Abbiamo nei primi dieci posti ben cinque donne, quindi dal punto di vista sia delle donne che dei giovani noi un grande sforzo lo abbiamo compiuto. Io sono convinto che lo sforzo che va compiuto è comunque di rinnovamento complessivo della cultura politica e quindi diciamo, però la presenza di donne e giovani è un dato inoppugnabile nelle liste del PD come in altre liste e questo è un dato positivo dal quale partire. Nella nostra abbiamo tra i primi quattro i capi lista diciamo nostri, c'è Giovanna Marano che è la funzionaria della FIOM e poi abbiamo Anna Falcone che rappresenta un pezzo di società civile organizzato, per cui anche da questo punto di vista, però il punto sul quale io in parte concordo col Presidente Vecchio è chiaro che Monti si è trovato a dover governare dopo lo sfacelo fatto da Silvio Berlusconi e dal berlusconismo, però non c'è ombre di dubbio come ha detto giustamente l'esponente della destra, è che Fini, due anni, anzi un anno e otto mesi, un anno e otto mesi sembra una condanna, non auspichiamo tanto. No, diciamo, due anni, prima dei, diciamo negli ultimi due anni ha preso posizione ed è uscito, è stato cacciato a dire la verità, perché Fini è stato espulso dal popolo della libertà e non c'è dubbio che anche il rappresentante dell'Udc, Casini, era stato espulso da Fini. No, ma sempre questa politica dei due forni, no? Questa idea di un centro e il rischio lo corre anche il Partito Democratico, cioè vediamo come va a finire poi. È vero che Casini negli ultimi anni ha mantenuto la barra ed è rimasto fuori, diciamo, dalle lusinghe berlusconiani. Però il problema di fondo è la mancanza di rinnovamento, caro Presidente, perché la gente, insomma noi stiamo parlando in una situazione che pare che non sia successo nulla, a parte la crisi economica e finanziaria, ma gli scandali della casta è un'invenzione di Beppe Grillo o è un dato reale? Ci vogliamo dimenticare quello che è successo nella regione Lombardia? Ci vogliamo dimenticare quello che è successo nella regione Lazio? Ci vogliamo dimenticare le inchieste e gli sperperi? Nella regione Puglia? Gli sperperi della casta, della politica, la mancanza di trasparenza, per cui adesso si viene a sapere che noi contribuenti andiamo a pagare la Nutella del consigliere regionale della Lombardia o della Liguria o della Puglia, io non faccio un discorso. Ma non solo nella politica, anche nelle banche c'è uno dei rimborsi per la Nutella. Per la Nutella, oppure per il libro Mignottocrazia, ma stiamo scherzando. Abbiamo bisogno di un rinnovamento, ma io dico in un momento di crisi dove allegramente si fa la riforma delle pensioni, la si accetta, caro Partito Democratico, per poi in campagna elettorale prendere le distanze e dire che il governo Monti ha fatto qualche errore. Si sono accettate le politiche sugli esodati, si è accettata la riforma delle pensioni, si è accettato l'Imu, si sono accettati, si è accettato l'Imu e oggi in campagna elettorale tutti, anche Monti è diventato un vecchio politicante, perché è entrato in campagna elettorale e si è messo prima a sbraitare contro la destra, poi contro il centrosinistra perché così gli aveva detto il guru di Obama, dopodiché ora si mette a dire che si può togliere l'Imu, ma questa idea di andare in campagna elettorale e di promettere, la gente l'ha capita, non ce la fa più, non si può chiedere ai cittadini il voto e far finta di nulla, di quello che è successo. Io vi faccio replicare tutti quanti, devo solo lanciare la pubblicità, quindi solo qualche minuto di pausa così poi riprendiamo con le giuste e dovute repliche da parte vostra con Ruotolo, quindi solo qualche minuto di pausa cari telespettatori e ci rivediamo subito dopo.